Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio fare un video da neofita ad altri possibili neofiti come me, ma non soltanto della pittura, del collezionismo e soprattutto del modellismo, come vedete qui davanti con tutti questi prodotti della Games Workshop, tra l'altro offerti dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semana, di cui trovate sempre il primo link in descrizione e poi a fine video sempre in sovrimpressione con il nostro codice discount. Vi do un pochino di... no, nemmeno dritte perché sono l'ultimo che lo può fare, però vi voglio un po' parlare di questa mia esperienza e rendervene un pochino partecipi, ovviamente presentandovi anche questi prodotti che ho davanti, dopo la sigla. Tanto per iniziare, preciso subito, è la prima, ma davvero con la P maiuscola, volta nella mia vita in 40 anni, che prova a dipingere qualcosa. Avevo già provato una volta a dipingere un cadiano nel 2001, se non erro, dell'Astra Militarum, della Guardia Imperiale, però non l'avevo nemmeno finito, perché proprio... non è tanto sì, non mi sentivo in grado, però non mi piaceva. Era un'attività che non mi dava niente, quindi ho detto piuttosto l'ischiero sul campo non dipinti. Però giocare a Warhammer e non dipingersi le miniature, secondo me ti perdi il 50% del gusto, ma come anche farle dipingere a qualcun altro? Sì, le porti sul tavolo, le vedi, cioè hai speso una frana di soldi, le vedi belle da morire, però ti senti e dici, ma lo potevo fare anch'io fondamentalmente. Ovvio, dipende anche da che prodotto parti, perché se vai a dipingere, prendi una scatola della Guardia Imperiale, quando Cadia resiste e devi fare per tutti il carnato, gli occhi, i denti, magari di quello che urla, una cosa o un'altra, può essere difficile. Ma, nelle Space Marine, tutti quanti con il casco, con l'armatura, la Mark 10 addosso, diciamo che mi ci sto divertendo e non mi sembra una cosa impossibile. Ovvio, poi nel corso del video vi faccio vedere queste mie prime due pitture, ve le faccio vedere accanto, che è roba, roba veramente da neofita, ma soprattutto da schieramento sul campo, quindi non è pittura da vetrina, ma è una pittura per mettere sul campo, perlomeno con un po', perlomeno dipinti, non grigi, via, come quando le levi dal blister. Allora, parto subito col dire che questa è la roba che ho ordinato per partire con il mio esercito, o meglio, gruppo di comando, gruppo di guerra, in Warhammer 40.000, che chi mi segue lo sa da sempre, io sono appassionato di Warhammer 40.000 e uno dei miei eserciti preferiti, ma posso anche dire il mio preferito di tutti, sono gli Space Marine, in questo caso gli Ultramarine. Gli Ultramarine a me piacciono da morire, guardate caso poi al secondo capitolo, sono gli Imperial Feasts, quindi le Space Marine 2.0, gli Ultramarine 2.0, perché rappresentano tutto ciò che secondo me gli Ultramarine dovrebbero essere, legge al dovere, onorevoli, seguono il Codex, il loro primarca robot Gilliman si è risvegliato e li guida nella crociata Indomitus, quindi per me lo Space Marine non è quello, il White Scar, o quello che cavalca un lupo in battaglia urlando pazzo come i lupi siderali, ma per me sono loro, legge al dovere, e che piuttosto, prima di rompere il Codex, preferiscono quasi, non ti dico perdere la battaglia, ma farsi ammazzare tutti. Quindi rispecchiano lo Space Marine, legionario dell'antica Roma, come deve essere, perfetto e senza paura, davanti al nemico, seguendo i dettami del proprio primarca. E questa scatola, appena uscita, una delle quattro che c'erano queste, le Salamandre White Scar, e non mi ricordo quale altra quarta, comunque si parla sempre di Space Marine, questa qui, Shones of Macrage, è la scatola degli Ultramarine, che costa 170-180, e dove all'interno abbiamo tutta la roba che vedete davanti, e in più c'è la miniatura di Marnius Calgar, che è il maestro capitolare degli Ultramarine, tra l'altro in armatura Mark X. Quindi anche Marnius Calgar, a livello di lore, si è fatto fare un'operazione dall'Adeptus Mechanicus, i Magus, i Prete di Marte, per farsi, non soltanto mettere un'armatura più grossa, la Mark X di Primaris, ma anche sviluppare il corpo, non mi ricordo parlare di lore anche in questi video, e è diventato un Primaris, perché i Primaris, lo sapete, sono più alti, più grossi, più robusti, e ora anche Marnius Calgar è un Marine Primaris. Qui davanti, insieme al set di partenza, ora poi ovviamente vi faccio vedere quello che ho preso io, ma vi do un consiglio, ci sono anche un Primer Blu della GV, un Primer Blu dell'Army Painter, e un set di pittura, vedete, qui davanti, con tutti questi sei colori dentro, che sono un set di pittura giusto col pennellino e tre miniature, tra l'altro, tre Intercessor d'Assalto, altri tre colori che ho preso io qui spaiati, per iniziare a dipingere tutto quello che c'è qua dentro. Però, ovviamente, qualche colore in più vi serve, tipo una lavatura finale, per dargli l'effetto, insomma, finale, molto bello che ho messo io e anch'io sulle miniature, e poi, soprattutto, per andarci a mettere anche un rosso, che il rosso è le figie che ci hanno addosso, i Seal of Purity, un puntino rosso e tutt'al più due puntini rossi per gli occhi, se non gliele volete fa' verdi, ma secondo me stanno meglio rossi, sono più cattivi le Space Marine, così. E i Primer Blu, o dell'Army Painter, o della Citadel, perché, perlomeno, se dovete andare a dipingere uno Space Marine, non per forza, perché c'è chi li fa neri e poi col dry li fa di un blu più celestino, più chiaro, però io ho detto, c'è il Primer Blu, perlomeno li faccio già blu, e poi vado a fare il resto. Almeno sono già blu, non devo prendere anche il blu a parte, il McRage Blu che vedete qui, e finirlo per fargli le parti blu. Sono già blu, meglio così, parere mio, personale. Poi, ovviamente, abbiamo un Endo, per dipingere meglio le miniature e un tenersela in mano, e, ve l'ho detto, il set di colori di partenza, che questo set di colori dovrebbe venire sulla quarantina, 35, qualcosa del genere. Ci sono tre miniature da dipingere, tutti i colori di base, a parte questi tre, no, l'ho preso a parte, e un pennellino. In più, se volete iniziare a collezionare Warhammer 40.000, io vi consiglio una scatola del genere. Non perché non possiate prenderli spaiati, però qua dentro, questo è un esercito per fare una schermaglia. Qua dentro ci sono tranquillamente 500 punti, secondo me anche di più, perché poi solo Marne o Skalgar ne varrà 200, per farvi capire. Però, secondo me, sono scatole giuste, perché in questa scatola, che pagate 170 euro, c'è roba magari per 220, 230. In alcune scatole, e non scherzo, controllate altri video, o fate voi il conto, andate a risparmiare anche 50-60 euro, che a prenderli spaiati. In più, dentro c'è anche il maestro capitolare. Abbiamo una squadra di Hellblaster, abbiamo le guardie personali del maestro capitolare, abbiamo dell'unità da corpo a corpo degli assaltatori, in più dell'intercessor. Quindi, voi prendete questa roba, comprate questa scatola, montate, ripingete, schierate, siete pronti per giocare. Non vi manca niente. Poi, ovviamente, se ci volete aggiungere un carro, delle moto, un dreadnought, altre cose, lo potete fare. Però, qua dentro, 170 euro, pronti, giocate per anni. Quindi, secondo me, sarebbe una scelta giusta, o prendere una pattuglia di comando come questa, da, a volte, 150, 170, questa sarebbe venuta di 170, e un set di colori. Con 200 euro, no? Magari, to, col primer potete andare a spendere 2,10, una cosa del genere. Siete pronti, ve le pitturate tutti, avete una bella unità da guerra, pronta da schierare sul campo, e non vi manca assolutamente niente. Anche perché la scelta che c'è nel mezzo è spettacolo. Media a lunga distanza, media a distanza, con armi pesanti, corpo a corpo, e assaltatori. Cioè, qua nel mezzo avete tutto. E io ho iniziato a dipingere dopo 40 anni, con risultati, ovviamente, dandomi un vuoto da solo da 1 a 10, 2, però è la prima volta che lo faccio, e mi ci sto divertendo, sto iniziando a dipingere una miniatura al giorno, che ci farò poi anche dei video, e secondo me può essere veramente una scelta. La più geniale, secondo me, se li volete dipingere, questa roba qui, se non li volete dipingere, questa roba la levate, ma compratevi un set di partenza, non li comprate spaiati, perché rischiate di spendere non soltanto di più, ma di comprare roba che poi, da schierare in campo, non vi serva a nulla. Quindi, perlomeno, qui vi danno una scatola perfetta, con tutto l'occorrente, per aprire, montare, eventualmente dipingere, schierare e combattere. In alternativa, se non volete partire da questo, potete ordinare, eccolo qui, potete ordinare, la scatola di Warhammer 40.000, Requit Edition Starter Set, della crociata Indomitus, mi sembra, non voglio dire una cavolata, ma guardate sul sito della giocolibria simola, dovrebbe venire sui 50, 60, qualcosa del genere, dove all'interno ci sono 20 miniature, Space Marine, ovviamente Primaris, degli Ultramarine, e dall'altra parte, i Necron, in più avete anche una casetta, uno scenaretto, dei metri per misurare i pollici, o meglio chiamati in gergo, le unità imperiali, e avete anche un regolamentino, regolamento non è tutto regolamento, di Warhammer 40.000, però diciamo, le regolucce basilari, per fare una partita. Quindi, in alternativa, volendo spendere poco, per dire, ma aspetta, prima di spendere tutti questi soldi, fammi vedere se mi garba, sto Warhammer 40.000, comprate sta scatolina, 50-60 euro, ci avete le miniature, e vi divertite anche qui per mesi, per settimane, organizzando tattiche e cose del genere. Quindi, questa potrebbe essere, a sua volta, una scelta da valutare. Come sempre, se volete ordinare questa roba, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla Giocolibreria Semola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se voi andate sul sito della Giocolibreria, e vedete, esempio, questi prodotti, bollino rosso, finiti, oppure proprio cercate, Shones of Macrage, e non c'è, c'è ovviamente, però magari non c'è sul sito, potete ordinare anche roba, fuori catalogo, reperibile ovviamente, e roba finita, se un oggetto è finito, non c'è nel catalogo, cliccate sul supporto, e mandate una mail a Corrado, il proprietario, dello giocolibreria Semola. Li fate presente, che arrivate dal canale di Coridan, e questo gioco, non ce l'ha in lista, ma si può avere comunque, se ovviamente è un gioco uscito da qualche mese, che ancora si trova, farà il possibile per trovarvelo, e mandarvelo. Usate sempre il codice discount Coridan 7, tanto lo trovate anche in descrizione, discount Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, e per spese superiori ai 79 euro, come in caso questa, non pagate le spese postali, e vi arriva a casa in 24-48 ore, in tutta Europa, quindi non soltanto in Italia, anche sulle isole, in Europa, non lo so, dalla Germania, dall'Olanda, dalla Francia, in 48 ore ce l'avete a casa, il servizio è eccellente. Io sto iniziando a dipingere Warhammer 40.000, e spero quanto prima, di schierarli anche sul campo, per farmi una bella battaglia con qualche amico. Se avete dei consigli da darmi, su come pitturarli, su come farli, ovviamente consigli legati alla pittura, in questo ambiente dove mi sto affacciando per la prima volta, sono a propenso, e lasciatemi direttamente nei commenti sotto il video. Ragazzi, come sempre, Games Workshop è sinonimo di qualità, spettacolarità, hanno festeggiato i 40 anni di miniature e collezionismo, io penso a livello mondiale, sono uno dei più famosi, se lo sono meritati anche col tempo, non vedo l'ora che ci facciano sapere qualcosa di Warhammer, il vecchio mondo, e per tutto il resto ve l'ho detto, lasciate un commento. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, e ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le Live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!